L'agricoltura è il futuro, sono in molti a sostenerlo, ma è veramente uno dei settori che ci salverà? Oddio, non so se ci salverà, ma certamente il cibo, l'agricoltura e il made in Italy sono una grande carta e questo paese può giocare. E del resto lo dimostrano anche quello che succede in Italia, nel mondo, l'attenzione, anche in qualche modo anche i mass-made che stanno riscoprendo il valore del buon cibo, che è legato poi a uno stile di vita, alla bellezza, a una sanità, a una vita migliore. Naturalmente bisogna organizzarci, fare sistema, essere molto umili perché nel mondo si muovono grandi dinamiche, l'Italia può giocare una grandissima carta perché il mangiare italiano, lo stile italiano è apprezzato nel mondo. Dobbiamo capire che a questa domanda di bontà, di qualità, noi dobbiamo rispondere in maniera seria, che mi sembra di capire che anche tanti ragazzi e ragazze stiano guardando all'agricoltura, all'agriindustria, con grande attenzione, ma non con un desiderio un po' bucolico, ma invece con un grande impegno professionale che può essere un modo per riempire degnamente una vita. Grazie.